alla ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sulle rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti e alieni esperti di e con fabio giua e giampaolo del bianco ciao a tutti da fabio giua e da giampaolo del bianco e benvenuti ad una nuova tappa del nostro viaggio alla ricerca dell'anima oggi siamo nuovamente io e te giampi affronteremo secondo me un argomento molto interessante o meglio ci aiuterai tu ad affrontare un argomento molto interessante che adesso andremo ad introdurre non prima aver di aver ricordato a chi ci ascolta di iscriversi a tutti i nostri canali quindi al gruppo facebook ai nostri canali telegram e youtube sul canale youtube se ci state seguendo da lì ci vedete anche in video spesso e volentieri e avete anche la possibilità di abbonarvi al canale per avere alcuni servizi riservati appunto a chi si abbona e quindi a chi sostiene il nostro podcast e detto ciò detto ciò vorrei introdurre appunto all'argomento di di oggi che ha un che di assolutamente affascinante e quando giampaolo me l'hai proposto mi sono detto qui tocchiamo tasti particolari ma sicuramente molto interessanti e cioè quando mi hai detto vorrei fare una puntata sul vuoto sacro che ha creato l'universo e quindi facciamola una cosa alla quale tenevo molto in realtà e questa esigenza nasce nasceva da una riflessione che stavo facendo cioè diciamo sempre nei percorsi di crescita personale di evoluzione spirituale no che ci sono delle domande che appartengono da sempre all'uomo che l'uomo non può evitare di farsi l'uomo inteso come essere umano ancestrale da sempre certo e cioè da dove veniamo no che l'origine e il senso dell'esperienza della vita oggi rispetto a ieri abbiamo delle conoscenze scientifiche che arricchiscono la possibilità di stare dentro questa riflessione in un modo impensabile e da da un altro punto di vista confermano delle intuizioni spirituali che nelle grandi tradizioni filosofiche millenarie avevano avuto uno spazio molto importante per esempio tu lo sapevi fabio che noi siamo davvero figli delle stelle come cantava qualcuno cioè che gli elementi di cui siamo fatti sono stati originati dalle stelle sì questa l'avevo già sentita in effetti sì è una cosa molto interessante e nella narrazione che cercherò di fare spiegherò spiegherò bene spero da profano da non astrofisico ma da ricercatore spirituale come questo è accaduto intanto dicevo la scienza che non deve essere mai vista come antagonista della spiritualità perché la spiritualità la scienza nel mio cuore nella mia mente sono due ottave della stessa frequenza e due portali per entrare nel magnifico percorso dell'evoluzione la scienza ha dato una risposta importante a una domanda sull'evoluzione dell'universo e cioè quando tu sai che noi collochiamo un evento a cui abbiamo dato il nome di big bang lo collochiamo all'origine dell'universo sulla parola origine ci torneremo però sapevamo che era un evento antichissimo ma da una ventina d'anni esattamente dal 2001 più o meno abbiamo anche una datazione abbastanza precisa notevolmente precisa che ci dice che il big bang è avvenuto 13 miliardi e 600 milioni di anni fa minuto più giorno ora fra l'altro un'equipe di scienziati alla quale apparteneva anche uno scienziato italiano paolo de bernardis di università della california ci hanno detto proprio nell'aprile del 2001 che il big bang è il primo suono prodotto dall'universo appunto 13 miliardi e 600 milioni di anni fa che rispetto all'esistenza dell'essere umano sulla terra è un quantum di tempo enorme e ci riduce come come il genere umano a un pulviscolo dentro l'universo ma anche su questo torneremo quindi la scienza ha risposto alla domanda quando sul come ci sono delle teorie ora le teorie sono complesse ma sono sostanzialmente due la prima la più popolare quella che forse conosciamo meglio quella che forse ha attinto di più ha raggiunto di più anche la nostra coscienza culturale collettiva quella che è più suggestiva per noi dice che deve esserci stato un volume estremamente piccolo molto denso e molto caldo che a un certo punto ha sprigionato un'energia tale per cui appunto si sono creati il tempo e lo spazio questa forse delle due teorie la più nota quella che appunto ci ha raggiunto maggiormente e quindi se noi chiudiamo gli occhi e immaginiamo un'immagine associata al big bang gli associamo una sorta di esplosione che è questo nucleo piccolo questo volume piccolo che lascia andare questa energia e crea il tempo e lo spazio ma c'è un'altra teoria che per certi aspetti da molti astrofisici è considerata ancora più scientificamente credibile secondo la quale invece nell'infinito il tempo e lo spazio ci sarebbero sempre stati lo spazio sarebbe stato però all'origine enormemente caldo enormemente denso vuol dire caldo miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di volte più del sole e denso miliardi e miliardi e miliardi e miliardi di volte più dell'acqua e a un certo punto anche questo tipo di universo avrebbe liberato energia lui era già infinito ma all'infinito si può sempre aggiungere qualcosa perché non c'è un finito più infinito di un altro e quindi avrebbe liberato energia che cosa questa liberazione di energia avrebbe permesso l'evoluzione dell'universo e sarebbe creato appunto uno spazio meno denso e meno caldo più rarefatto e meno caldo la qualcosa avrebbe permesso che potessero cominciare a interagire fra di loro i primi elementi che altrimenti alle temperature prima non avrebbero potuto connettersi primi elementi che hanno dato origine alle prime stelle sono state sostanzialmente l'elio il litio e l'idrogeno e poi che cosa è successo? Questo succede 13 miliardi e 600 miliardi di anni fa quando l'universo era molto giovane nascono le prime stelle e le stelle si tratta alcune stelle molte stelle molto più grandi del sole cominciano ad avere nel proprio interno al proprio nucleo una serie di reazioni nucleari perché aumentano costantemente il loro calore interno aumentando costantemente il loro calore interno e provocando queste reazioni nucleari al loro interno arrivano verso la fine della loro vita che è una vita estremamente breve dal punto di vista dell'universo stellare appunto di vista stellare intorno al milione di anni arrivano a non reggere più tra virgolette l'energia che producono cioè non fanno più in tempo a disperderla intorno a loro e finiscono con l'esplodere e esplodendo liberano nell'intermezzo stellare nel mezzo interstellare cosa? Gli elementi appunto che hanno creato al loro interno questa cosa succede non ce l'ho da immaginare se non in nubi di gas e polveri dentro le quali come un utero nascono altre stelle e pianeti che poi formeranno galassie e che sono più cariche di elementi rispetto alle stelle che le hanno originate ecco e nel nucleo di queste stelle che poi sono le supernove ci sono creati gli elementi che e quindi gli atomi che noi conosciamo che dall'idrogeno all'uranio che formano le cose anche noi quindi noi siamo davvero figli delle stelle perché nasciamo dagli elementi rilasciati dal nucleo delle supernove e ancora prima nasciamo dal brodo primordiale dentro il quale ci potevano stare solo l'elio, il litio e l'idrogeno che noi vogliamo pensare all'universo come nato da un volume più piccolo che libera energia e dà luogo allo spazio e al tempo o che vogliamo pensare a un infinito già infinito e già con lo spazio e il tempo che a un certo punto si raffredda e permette la nascita di quello che conosciamo e ammiriamo oggi quando guardiamo il cielo che ha solo una piccolissima proporzione di tutto quello che esiste a qualunque di queste due teorie diamo affidamento e oggi la scienza una risposta definitiva su questo non ce l'ha viene una domanda e cioè che cos'è questa energia invisibile che si è liberata? sai, gli scienziati la chiamano l'energia del vuoto e se ci pensi bene è una suggestione spirituale perché l'energia del vuoto è un'espressione assolutamente poetica e secondo me altamente spirituale veramente che fa da cerniera tra la spiritualità e la scienza ed è proprio questa immagine dell'energia del vuoto che mi ha fatto riflettere direi innanzitutto come meditatore tu sai che per i meditatori il vuoto è un'istanza imprescindibile ed è un vuoto, mai vuoto realmente ma ricco e fecondo allora io mi sono immaginato, mi sono chiesto a un certo punto nel Big Bang si è liberata questa energia si è prodotto il primo suono che l'universo ha generato e si sono create le stelle, i pianeti, le galassie, le armassie tutto quello che conosciamo oggi e che viviamo in piccola porzione per esempio sai che il sole, la stella grazie alla quale noi viviamo sulla Terra lei ha una vita databile complessiva cioè vivrà 10 miliardi di anni e di questi 10 miliardi ne ha già vissuti 5 più o meno a metà della sua strada fra 5 miliardi di anni è destinata a cessare la sua attività e con lei la Terra ma di questo noi almeno in questa incarnazione penso non ci possiamo in teoria non dovrebbero toccarci non dovremmo preoccuparci però torniamo a questa energia del vuoto che non è vuota ma è piena talmente piena che a un certo punto ha bisogno di produrre, di rilasciare energia e rilasciando energia crea quando la spiritualità appoggiandosi anche sulla fisica ultramoderna la cosiddetta fisica quantistica parla di un campo di coscienza collettivo al grado zero dove esistono infiniti potenziali che precipitando diventano realtà sta descrivendo lo stesso tipo di vuoto cioè un vuoto che non è assolutamente vuoto ma nel quale, virgolette, galleggiano infiniti potenziali che poi diventano realtà come un po' nella nostra prima ipotesi possiamo immaginare questo volume piccolo piccolo che a un certo punto ha dato vita nell'infinito al tempo e allo spazio implodendo ed esplodendo potenziali che diventano realtà e quindi l'origine dell'universo così come ce la descrive la scienza al momento del Big Bang conferma le teorie spirituali cioè un campo di potenziali un'energia che fa sì che questi potenziali che cosa sono i potenziali? sono energia, sono frequenze, sono vibrazioni si liberano, collassano e diventano materia diventano realtà quindi quando noi affrontiamo e qui l'abbiamo affrontata spesso tutte le teorie del campo della co-creazione della realtà del pensiero che crea del campo al grado zero del campo di coscienza collettiva del campo morfogenetico ecco l'immagine è di nuovo quella di una energia del vuoto un vuoto però che ha bisogno di generare sai all'origine delle religioni questo vuoto era stato intuito dagli esseri umani ti faccio tre esempi che spero possano essere interessanti per i nostri ascoltatori uno riguarda proprio la nostra radice culturale cioè la religione ebraico-cristiana all'inizio del libro della Genesi che è il primo libro della Bibbia per come lo troviamo per come sono sistematizzati però non è il più antico a livello di scrittura noi troviamo l'origine dell'universo descritto come? con un'immagine fulgurante cioè dice che lo spirito di Dio che in ebraico è la rua aleggiava sulle acque e la terra era deserta e in forme e c'è un suono è il suono dell'aleggiare dello spirito di Dio sulle acque e di nuovo veniamo a quello che dicevo prima cioè che questa equipe di scienziati californiani di cui fa parte anche un italiano aveva scoperto vent'anni fa che quello è il primo suono che si è prodotto nell'universo il Big Bang e allora possiamo se entriamo dalla porta della sapienza ebraico-cristiana possiamo pensare al Big Bang come al suono della rua dello spirito di Dio che aleggia sulle acque la filosofia greca alla quale noi abbiamo attinto molto abbiamo attinto molto alla sapienza ebraico-cristiana abbiamo attinto molto anche alla filosofia greca poneva all'origine dell'universo il caos ma il caos era un suono che pensa che in greco antico la parola caos deriva da un verbo che vuol dire sbadigliare il che vuol dire che gli antichi greci immaginavano l'universo come creato da un enorme sbadiglio e l'universo era l'altro nero che tutti noi possiamo guardare se osserviamo la bocca di uno che sbadiglia e da un enorme sbadiglio era nato l'universo sotto forma di caos un enorme sbadiglio e questo è molto suggestivo sia perché ci riporta l'idea del suono quindi il Big Bang come grande sbadiglio sia perché è uno sbadiglio del risveglio qualcosa si è svegliato noi la mattina quando ci svegliamo tendiamo a sbadigliare un grande enorme sbadiglio ha dato origine all'universo se ci pensi è molto poetica anche questa immagine assolutamente sì mi veniva in mente mentre tu raccontavi così bene questo antefatto di quanto l'uomo abbia sempre e da sempre avuto bisogno di conferme di soluzioni riprovate e riprovate nel senso che la scienza ha delle regole ben precise come giusto che sia e derivano dal fatto che oramai o forse da sempre siamo un po' come San Tommaso se non ci mettiamo le dita se non tocchiamo con mano non siamo sicuri di una di una qualsiasi cosa abbiamo bisogno delle delle prove tangibili e scientifiche per l'appunto e quindi da un lato mi veniva in mente questo e dall'altro di quanto invece per questioni più spirituali diciamo così le andiamo se non siamo noi ad andarle a cercare difficilmente ci vengono messe così su un piatto d'argento tu hai detto che determinate condizioni scientifiche che hanno in un certo senso confermato tradizioni millenarie spirituali eccetera ma se devo pensare che come ti posso dire che queste stesse conferme vengano in qualche modo divulgate così come verrebbe divulgato appunto il rumore che ha fatto il Big Bang che a quanto ne so è stato in qualche maniera registrato insomma a eco che questo rumore ha prodotto beh ti dico che no cioè non non credo che sia così che la stessa eco di una di una scoperta di quel genere possa essere possa aver avuto lo stesso riverbero proprio perché evidentemente non sono fatti così tangibili che possiamo così toccare con mano quanto una scoperta scientifica che in qualche modo comporti anche una parte proprio fisica no? proprio di quasi tattile no? che veramente nella quale possiamo mettere il dito sì ma questa cosa è inevitabile secondo me perché la scienza si occupa di capire il funzionamento del macrocosmo e del microcosmo e come funziona la scienza fa un pezzo scopre delle cose e questo e queste queste realtà qui accede aprono scenari di cose che ancora non sono state capite o individuate e quindi la scienza continua e lo fa attraverso il metodo scientifico dell'esperimento e quindi la scienza può accettare per verità solo i fenomeni che ha constatato o ha riprodotto la spiritualità che però non è antagonista della scienza non ha bisogno di constatare o riprodurre delle cose può accontentarsi tra infinite virgolette dove accontentarsi vuol dire essere felice di può essere gioiosa e felice di la spiritualità le intuizioni cioè quando ha l'origine delle cosmogonie si chiamano così le filosofie che hanno cercato di individuare l'origine dell'universo gli uomini si dicevano all'origine dell'universo c'è il suono dello spirito di Dio che alleggia sulle acque beh chiaramente quegli uomini dentro quella cornice filosofico spirituale non avevano nessun bisogno di una conferma scientifica di questo non avrebbero potuto fare nessun esperimento che glielo confermasse se non forse ma non sarebbe stato un esperimento portarsi una conchiglia all'orecchio perché il rimbombo della ruota sulle acque si connessa miglia tanto a quello che possiamo sentire dentro la conchiglia portandocela all'orecchio ma quegli uomini come noi quando affrontiamo quando stiamo nella cornice spirituale non avevano come non abbiamo noi quando stiamo dentro quella cornice bisogno di conferme la nostra mente però agisce su due livelli c'è una mente che invece ha bisogno di conferme in qualche modo poi senza generalizzare troppo queste due visioni si sono anche un po' sparpagliate nel mondo noi occidentali siamo più portati ad avere bisogno di conferme ci credo se lo vedo ci credo se me lo dimostrano gli orientali ne hanno ne hanno ne hanno tradizionalmente meno però è proprio vero che quando la scienza e la spiritualità sono andate in conflitto è successo perché la scienza ha accusato la spiritualità di credere a istanze senza fondamento scientifico la spiritualità ha accusato la scienza di cinismo proprio perché toglieva la possibilità di dare valore all'invisibile per un credente la massima espressione della spiritualità è l'affidamento in Dio qualunque nome gli si dia a quel Dio ma Dio è un fattore scientificamente indimostrabile ma se ci pensi bene con criterio scientifico voglio dire non c'è nessun non soddisfa nessun criterio scientifico per poter dimostrare l'esistenza l'anima stessa il concetto di anima non soddisfa nessun criterio scientifico per dimostrarne scientificamente l'esistenza infatti ci sono fiori di pensatori ci sono stati e ci sono e ci saranno che non credono né nell'esistenza di Dio né nell'esistenza dell'anima e non vivono questa convinzione come un lutto non gli manca qualcosa questa possibilità che noi abbiamo di vedere le cose in un modo così differente come spesso succede se si polarizza ci fa diventare antagonisti e a volte fa percepire l'uno e l'altro come in chiave negativa secondo me dobbiamo cercare di leggere questo guardando a tutti e due questi portali e che ognuno stando nel proprio ambito può offrire un pezzettino di occasione perché per me quando appunto la scienza è riuscita a datare il Big Bang e a dirmi che è veramente il primo suono generato dall'universo e ha dato una conferma alla rua dei credenti ebraico-cristiani al caos degli antichi greci ma e così concludo anche la terza istanza all'om delle religioni e delle filosofie orientali che sai che c'è questo mantra questo suono l'om che ha creato l'universo e che quindi di nuovo coincide col Big Bang 13 miliardi e 600 milioni di anni fa quando la scienza mi dice questo e mi dà questa conferma di cui il mio il mio anno non aveva bisogno ma che esulta ma non è che esulta perché dice allora posso affidarmi alla spiritualità con più convinzione perché la scienza me l'ha confermata ma perché è una meraviglia quando su canali diversi c'è c'è un incontro e forse se si stesse sui punti di connessione di questo incontro potremmo essere meno antagonisti e meno e meno il conflitto per me questa cosa mi crea uno stupore una gioia interna che è veramente un'energia creatrice invece che cosa fa spesso l'uomo spesso l'uomo dice no dividiamoci tra chi crede e chi non crede e poi magari quelli che credono dicono dividiamoci fra quelli che danno un certo nome a chi ha fatto bang oppure un altro nome a chi ha fatto bang e poi magari pensiamo che abbiamo ragione solo noi e gli altri hanno torto ed è così poi che nasce il veneno il veneno tra le persone nasce perché l'essere umano ha una grande tentazione quella di dividersi scindersi che di per sé questo andrebbe anche bene perché se da un gruppo se ne scindono due semigruppi due sotto insiemi ognuno può lavorare su qualcosa e poi ci possiamo incontrare e confrontare il nostro viaggio e il sotto insieme A può come dire condividere con il sotto insieme B quello che il sotto insieme B non ha visto e viceversa però il problema qual è? Che molto spesso il sotto insieme A si convince di aver trovato la verità e dice no al sotto insieme B che sta sbagliando e appunto reciprocamente funziona così io credo e attirerò delle critiche per questo mio credere io credo che quell'energia del vuoto sia la matrice dell'amore universale credo che l'universo sia stato generato da un amore così potente che non poteva contenersi appunto è imploso esploso nelle forme che ipotizziamo per il Big Bang 13 miliardi 600 milioni di anni fa questo io credo fermamente credo che a quell'amore universale culturalmente noi possiamo dare infiniti nomi non credo che gli esseri umani che adoravano l'albero il funino il sasso avessero più torto di quelli che poi hanno avuto forme di culto di teologia più strutturata e penso che alla fine chi crede cerca di stare vicino e di affidarsi e connettersi a quell'amore universale dandogli dei connotati che sono evidentemente culturali e meno male che esistono perché è bellissimo pensare che da una parte del mondo si creda di dare a questo amore universale connotati di Yahweh e poi magari del figlio di Yahweh oppure di Allah oppure del panteon delle divinità dell'induismo piuttosto che di altre religioni ma è bello anche che per alcuni questo amore universale sia un spiegato che resta tale un punto interrogativo e che la scienza provi a esplorarlo non con devozione ma con curiosità e poi ammetta che più oltre non può andare la scienza oltre la scienza oggi e dobbiamo ringraziarla è arrivata a dirci appunto quando è un pezzettino del come e che dentro questo come appunto c'è stata la creazione dei pianeti e delle stelle attraverso il meccanismo che dicevo prima però oggi la scienza non sa e sa di non sapere come perché questo è successo quindi quella domanda se c'è stato il Big Bang e oggi sappiamo che c'è stato e che ha avuto un suono chi è che ha fatto Bang la scienza non lo sa che cosa ha fatto Bang o chi ha fatto Bang noi possiamo dargli il nome che preferiamo ma dobbiamo renderci conto che è una frequenza di amore che si genera dall'energia del vuoto o dal vuoto sacro che ha generato il tutto e quando penso a questo io penso all'incontro di due cellule che crea l'essere umano con uno sviluppo veloce e impressionante paragonabile al Big Bang e l'embrione se noi guardiamo in serie l'ecografia di un embrione nel giro di poche settimane succede una roba che è un Big Bang una cosa inimmaginabile da qualcosa di infinitamente piccolo si crea si sviluppa un'energia che costruisce l'essere umano e lo differenzia nei suoi apparati e quando il bambino o la bambina nasce dopo la gravidanza alla fine della gravidanza è tutto completo tutto questo è avvenuto in un tempo incredibilmente breve ed è fatto di quegli elementi di quegli atomi che si sono generati all'interno del nucleo delle 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 stelle e ci sono quattro forze ci dice la scienza che governano questo universo due di queste forze noi le conosciamo ne abbiamo nell'orecchio il nome sono la gravità che permette ai corpi di stare uniti non disgregarsi e l'elettromagnetismo altre due forze sono meno note una si chiama interazione forte l'altra si chiama interazione debole pensa che l'interazione forte è quella che permette ai protoni i protoni sono quegli elementi subatomici che stanno nel nucleo dell'atomo e che sono di carica positiva invece l'elettrono di carica negativa orbitano intorno all'atomo avendo carica positiva sarebbero destinati a respingersi invece l'interazione forte è quella forza per cui restano compatti ecco quella vita che nasce con la mamma e il babbo che la stringono fra le braccia e ne gioiscono partecipa ed è viva grazie a tutti gli elementi che sono sprigionati dalle stelle e a queste quattro forze che governano l'universo e che sono presenti anche in quel bimbo che risponde alla gravità e anche alla legge dell'interazione forte grazie alla quale i protoni restano uniti e questo lo possiamo vedere dal punto di vista scientifico e gli scienziati ci aiutano a dare nomi datazioni spiegazioni e poi si fermano e poi possiamo andare oltre e lì arriva il percorso spirituale e l'ammirazione dello scienziato lo stupore dello scienziato può diventare devozione può diventare bisogno di connettersi a quella matrice di amore che fa sì che tutto sia perfetto fra l'altro queste quattro forze di cui ti parlavo la gravità l'elettromagnetismo l'interazione forte l'interazione debole che invece è quella che fa sì che ci sia la radioattività nell'universo è stato dimostrato ed è stato dimostrato da Carl Rubio al CERN di Ginevra grazie all'acceleratore di particelle che all'inizio dell'universo quando c'è stato il Big Man quando c'era il Brodo Primordiale forze erano di quattro era una sola che poi si sono differenziate in quattro forze quindi vedi che la scienza ci dà proprio degli elementi su cui riflettere dal punto di vista spirituale io non so se ti consideri tutto questo affascinante come lo considero io è commovente però veramente assolutamente sì e non solo ma ogni volta che sento parlare del vuoto mi viene da pensare a quanto per il poco che ne so io il vuoto è ancora una grande è ancora un grande interrogativo della scienza di per sé e però una cosa che si è ormai scoperta e appurata che ciò che noi possiamo vedere e tangere non è altro che una minuscola percentuale una minuscola parte del tutto no? tutto il resto è vuoto quindi parliamo dell'ordine mi sembra del 98% se non sbaglio esattamente dopo del 2-3% di materia energia che è contattabile dai sensi e il resto è dentro questa energia del vuoto e questo mi fa a quel punto pensare beh noi ci sbattiamo tanto per avere conferme scientifiche di un 2% di quello che c'è intorno a noi e forse non ci occupiamo e preoccupiamo più di tanto di tutto il resto che forse sarebbe sarebbe la materia principale no? da più che da scoprire da imparare a a interagirci no? assolutamente ma c'è forse una riflessione in più la tua riflessione veramente mi trova assolutamente d'accordo io penso anche da un lato a come tutto sia perfetto no? facendo riferimento a quella percentuale del 2% o il 3% della materia visibile rispetto all'energia invisibile però ti ricordi che quando noi abbiamo intervistato l'esperta di epigenetica ormai tantissimo tempo fa ne sono trascorse le puntate ma potete andarla a vedere lei ci ha spiegato come il DNA che era stato scoperto nel progetto Genoma Humana all'inizio degli anni 90 quello che si che si vedeva di cui si capiva la funzione quello di cui si capiva la funzione era il 2-3% di quello che c'era e il resto era stato chiamato junk DNA 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 spazzatura e la percentuale era la stessa 2-3% e non è mica un caso che la percentuale fosse proprio quella evidentemente noi siamo destinati a conoscere con i sensi e con la logica un pezzettino infinitamente piccolo delle cose e siamo destinati a vivere un'esperienza che è potenzialmente infinita di conoscenze esattamente come l'universo che è infinito che per noi infinito vuol dire che non cresce invece l'universo è infinito e cresce che è un pensiero che ci fa tremare le vene i polsi ma non c'è un infinito più o meno infinito di un'altra cosa e quindi l'infinito può crescere questo è veramente una cosa alla quale dovremmo fare presenza mentale perché tutto il senso di questo discorso e qui torna un nucleo di spiritualità è che se noi veramente con presenza riuscissimo a inchinarci di fronte a questo di fronte a tutto quello di cui abbiamo parlato e di fronte a questa storia enorme perché rispetto ai tredici ugardi e spicci di vita dell'universo la nostra vita può sembrare veramente un po' viscolo danzante ma questa cosa non deve indurci all'infinito ma deve farci avere un senso delle proporzioni tali per cui e insieme al senso delle proporzioni anche il senso dell'infinita perfezione dell'orchestra che guida il tutto tale per cui il nostro sistema solare somiglia tanto a quell'atomo di cui abbiamo parlato finora che se guardassimo a queste questioni con più attenzione forse le nostre priorità le nostre energie mentali cambierebbero e avremo meno predisposizione a dividerci su questioni poco importanti e ci lasceremo un tempo più forte più significativo più significante per danzare la danza dell'energia universale e vedere dove ci porta può sembrare un discorso retorico secondo me non lo è secondo me guardare a tutto quello di cui stiamo parlando con fede significa entrare in una realtà così immensa che però ci accoglie come sue parti integranti noi se riuscissimo ad appoggiarsi a tutto quello che è avvenuto prima a sentirci veramente figli delle stelle cioè fatti degli elementi creati nel nucleo delle stelle che poi libera energie e questa energia forma i pianeti le stelle e noi con gli stessi atomi dall'idrogeno al plutonio se riuscissimo a fare tutto questo forse daremmo un significato diverso a quello che ci accade e invece a volte la mente ci costringe a ancorarci come le cose sullo scoglio stare dentro a un piccolissimo orticello dimentichi di tutto quello di cui stiamo parlando e se dimentichiamo poi alla fine rischiamo di farci un danno perché perdiamo uno scenario che ci può far sentire piccoli piccoli ma anche sostenuti sostenuti perché dentro la matrice dell'amore universale ecco se posso dare un suggerimento a chi ci ascolta proprio nel merito di quello che stavi dicendo Giampaolo secondo me c'è un esercizio che tutti un giorno o l'altro dovrebbero fare nell'arco di una vita e cioè di recarsi in un osservatorio astronomico possibilmente con qualcuno che poi ci spieghi anche che cosa stiamo ci stiamo facendo non semplicemente con un telescopio amatoriale o comunque con qualcuno che ci stia spiegando ecco ma secondo me mettere l'occhio dentro un telescopio e osservare una stella che si trova a miliardi di anni luce da dove ci troviamo noi e quindi osservare un movimento di quella stella avvenuto miliardi di anni fa secondo me è ciò che in quel momento ci fa sentire così piccoli ma allo stesso tempo ci fa sentire proprio perché deriviamo dalle stelle della materia delle stelle ci fa sentire un universo intero assolutamente è un ottimo consiglio quello che dai è ancora più pertinente perché purtroppo a causa dell'inquinamento luminoso noi non siamo più nella possibilità di osservare il cielo e guardare le stelle se non andiamo in montagna ma quale montagna però deve essere una montagna non turistica perché l'inquinamento luminoso ci impedisce di osservare le stelle allora l'osservatorio soprattutto con delle guide esperte può essere un viaggio enorme nel quello che chiamiamo universo che qualcuno chiama multiverso e molte delle cose che osserviamo chi ci farà da guida ci dirà che hanno nomi legate alla mitologia questo per dire che tutto torna i pianeti hanno i nomi degli dei delle antiche teogonie ma questo perché quell'intuizione di spiritualità c'è stato un momento in cui scienza e spiritualità camminavano più di pari passo poi hanno preso due strade più divaricate spesso guardandosi con sospetto anche se non bisogna pensare che tutti gli scienziati siano distanti dal percorso della fede ce ne sono anche di molto credenti bene Gianpaolo io ti ringrazio a nome di tutti gli ascoltatori che ascolteranno questa puntata perché secondo me hai abbiamo portato una lezione veramente esemplare di quello che che è stato e di quello che potrebbe essere secondo me una veramente una lezione che può suscitare grandissime riflessioni da parte di tutti lo spero e magari qualcosa di questo lo riprenderemo anche in futuro assolutamente sì e per adesso ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori di mettere un bel mi piace alla puntata che state ascoltando qualsiasi puntata che state ascoltando e di dire spargere la voce dire in giro che esiste un posto sicuro dove ogni settimana si parla di anima e non solo e detto questo io Gianpaolo ti saluto e ci troviamo ci ritroveremo alla prossima tappa del nostro viaggio alla prossima ciao ciao e ciao a tutti alla ricerca dell'anima domande risposte e curiosità sul vivere e sul rimanere indenni per terrestri curiosi e alieni esperti e alieni esperti di e con fabio giua e giampaolo del bianco di e Grazie a tutti.